andiamo a scaricare la montazione del pacchetto. Questo è importante questa cosa. Si si fa con questa paia di vita. Perché si fanno i cambiamenti della spazzatura? Si, lo scarico con la spazzatura qua. Si, questo cambio qua, quello è vero la scarica. Perché si fanno i cambiamenti della spazzatura? Lo scarico della spazzatura. Addirittura perché questo scarico? Per portarlo poi in discarica. Ah si, vado un po' qui. Il nostro corso gratuito è www.mesmerism.info Il nostro corso gratuito è www.mesmerism.info